Dalla chiusura del bar del campo alla verifica della concessione passando per la voce delle comunelle. Una situazione non semplice oggetto dell'interessamento della civica adesso Trieste che oggi ha illustrato alla stampa la prossima interrogazione che approderà nell'aula del Consiglio Comunale. Il riferimento è il campo sportivo Rona di Prosecco, campo comunale cui concessione è stata rinnovata nel 2022 al Nogometnik Club Primorie, società che non avrebbe secondo l'analisi dei consiglieri nessuna attività sportiva in essere. Parallelamente però c'è a oggi chi utilizza il campo, ovvero il Primorie 1924, club che vede la propria prima squadra in seconda categoria. Come si spiega questa situazione si domanda adesso Trieste. Il Comune nel 2022 ha concesso una proroga della concessione di questa struttura a una società che è il Nogometnik Club Football Club Primorie che non svolge più attività sportiva a quanto ci risulta da ormai da qualche anno mentre invece c'è un'altra società, il Primorie 1924, che pur svolgendo attività sportiva non ha la concessione della struttura. Abbiamo verificato nell'atto di proroga della concessione che non c'è nessun riferimento né a una relazione sulle attività che questa società dovrebbe svolgere in favore dei giovani, in particolare del territorio ma neanche alcun riferimento al coinvolgimento delle comunelle che gestiscono il territorio sul quale è costruito questo impianto sportivo che nel 2015 avevano firmato un accordo con il Comune che prevedeva l'obbligo di essere consultati nel caso appunto di atti di questo tipo. La richiesta del capogruppo Riccardo La Terza per mezzo dell'interrogazione è quella di ottenere chiarezza sugli atti e quindi trasparenza nella gestione delle concessioni, visto che a Trieste c'è molta fama di spazi sportivi da parte delle società. Ci sembra l'ennesima dimostrazione di mala gestione del patrimonio pubblico da parte della Giunta di Piazza in particolare dell'assessore Alodi che ha la competenza sugli impianti sportivi ed è il motivo per il quale abbiamo presentato questa interrogazione sperando di ricevere delle risposte che ci confortino sulla regolarità degli atti e sul fatto che effettivamente gli impianti sportivi vengano assegnati alle società che ne hanno bisogno e sono veramente tante sul territorio le società che non hanno la possibilità di gestire il proprio impianto sportivo.